L'ospedale Saluca di Valvo della Lucania si rifà il look. Sono iniziati nella giornata di lunedì i lavori per realizzare la nuova facciata dell'ingresso principale. Si tratta di ulteriori interventi che vanno ad aggiungersi a quelli ultimati nei giorni scorsi per il rifacimento della facciata esterna lato pronto soccorso. Un importante intervento atteso da tempo che di fatto ha reso più dignitoso ed abbellito l'ospedale del centro cilentano, DEA di primo livello. Ora grazie alla disponibilità del direttore generale dell'ASL Salerno Mario Iervolino, d'intesa con il direttore sanitario del San Luca Adriano De Vita e del direttore amministrativo Flavio Meula, sarà aperto un ulteriore cantiere per rifare l'ingresso. I lavori sono diretti da Lello Epifania con il responsabile del RUP, l'ingegnere Luigi Miranda. Gli interventi prevedono oltre al rifacimento dell'intonaco anche un intervento di abbellimento. È prevista infatti una scritta che è adeguatamente illuminata, riporterà il nome Ospedale San Luca, DEA di primo livello, Vallo della Lucagna, Agropoli.